buonasera dal barbershop l'ello mastro dopo il dopo bologna una giornata di relax dal mio barbiere di fiducia e come potete ben vedere oggi relax totale anche lui non vuole saperne niente giusto giusto sta facendo i capelli per me con la sua faccia scocciata come la volete vedete appesa non è verso scherzante è un ottimo barbiere mi raccomando ha solo un problema se guardate in alto tifa napoli però come si dice nessuno è perfetto però va bene così siamo amici di una vita e per questo oltre alla sua bravura c'è anche una grandissima amicizia che ci lega da anni mi raccomando passate da qui in via santa margherita a piano di sorrento un saluto a tutti va bene saluta arrivederci a presto molto serio quando vuole ciao